Terremoto. Paura a Pozzuoli e Napoli in piena notte per una scossa avvertita alle 2,50. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha rilevato una magnitodo di 2,9 a profondità di soli 2 chilometri. L'epicentro ha Pozzuoli nei pressi della Solfatara. Tutta Napoli in pratica ha avvertito il sisma, ma allarme tra la gente e soprattutto nei quartieri occidentali, da Agnano e Pianura a Fuorigrotta e Bagnoli. Molte le chiamate al 118 da tutta l'area dei campi flegrei ma non risultano danni per ora a persone o cose. Secondo i primi dati diffusi da Linf la magnitudo del fenomeno tellurico è stata di 2,9 con epicentro sulla dorsale Solfatara Pisciarelli, con profondità a 2,4 chilometri. Notevole lo spavento della popolazione soprattutto sull'asse Pozzuoli-Alta Quarto, dove è stata avvertita con maggiore intensità. La scossa di questa mattina è inferiore per intensità solo a quella registrata il 6 dicembre scorso con magnitudo 3,1 e tra le più forti dal 2006. Al momento non si registrano danni a persone e cose. Grande allarme sui social network. Social network pieni di testimonianze di gente che ha avvertito chiaramente la scossa delle 2,50. Il sisma ha ricorsato quello del 6 dicembre scorso di 3,1 sempre a Pozzuoli che allarmò tutta l'area dei campi flegrei. Grazie.